Ciao, sono Deborah Morese e anche io resto a casa. Mi unisco al coro dei ringraziamenti che molti miei colleghi hanno fatto prima di me con questi video, ma soprattutto voglio dire a te, a te che in questa difficile situazione ti sei ritrovato o ritrovata a casa sola, magari molto lontano dalla tua famiglia o dalla persona che ami, grazie, grazie davvero per questa tua scelta responsabile, grazie di essere rimasto o rimasta a casa. Noi ci siamo per farvi compagnia con le nostre voci, magari dopo mille call di lavoro oppure, che ne so, semplicemente per distrarci dopo le minuziose pulizie di casa che sono sicura che tutti abbiamo programmato di fare in questi giorni. Insomma, restiamo a casa e facciamolo insieme e mi raccomando questa bellissima idea di comunità, teniamocela stretta e portiamocela avanti anche quando questa brutta storia sarà finita. Vi abbraccio!